Le qualità di questo master sono sicuramente la possibilità di vedere un futuro che va appunto seguito sulle orme del master stesso. Oggi noi giovani siamo abituati o comunque vediamo il nostro futuro che non sia necessariamente collegato con le materie che abbiamo studiato e per le quali ci sentiamo anche abbastanza sicuri. Spesso i giovani si ritrovano a studiare un settore ma poi a praticarne uno totalmente diverso. Il master mi ha dato la certezza che studiare non significa accantonare quanto si è imparato ma soprattutto significa mettere in atto tutte le cose che abbiamo letto soltanto nei libri e che abbiamo avuto in questo caso la possibilità di vedere e di praticare. Grazie per la visione!